bella gente joe the tech gamers è qui presente oggi siamo qui con un breve video in cui farò vedere la funzione della tastiera bluetooth della trust non so se si legge trust tastiera bluetooth sul mio lumia 930 allora per prima cosa aspettate un attimo se no qua c'è un patatrack mettiamolo qui accendiamo la tastiera da qui scritto on off ok accesa adesso andiamo su impostazioni bluetooth del telefono bluetooth accendi adesso non la troverà sapete perché appena dobbiamo schiacciare il tasto payer guardate eccolo qua tastiera bluetooth wireless keyboard scrivi il pin 714 111 13 sulla cc social lo scriviamo 7 14 2 1 3 e si facciamo invio e si è collegata come potete ben vedere si è collegata ovviamente questo tasto questo tasto non funziona perché questa è solo per l'iphone potete ben notare vediamo se qualcosa no ok allora facciamo così mettiamo qui mettiamo in mezzo andiamo indietro questo è windows phone 8.1 gdr2 ovvero update 2 andiamo su office office nuovo documento word word allora scriviamo ciao spazio come stai shift più con il punto interrogativo se non vedete meglio facciamo così io sto bene virgola c vediamo oggi shift e il punto interrogativo vabbè ho scelto z per sbaglio comunque questo bene ci vediamo oggi poi se non ci credete che funziona tra servo tutto adesso vi faccio il tasto della faccina guardate cosa fa aspettate un attimo schiaccio questo qui eh guardate scrive da solo wave mettiamo questa qua vedete questa la penultima mettiamo che ne so la penultima n mettiamo un'altra i ti serve il pollice in su questo qua quella non fa niente vedete che funziona bene vi ho fatto vedere come si collega la tastiera e niente che dirvi di più quindi spero che questo video sia utile a coloro che vogliono comparsi una mini tastiera da attaccarci nel telefono se volete altri video di telefoni ditemelo anche se li farò lo stesso comunque da Joe The Tech Gameless è tutto ci vedremo in prossimo video ok bella ciao 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 ciao